Poche parole ma dense di gratitudine per tutti quegli uomini e quelle donne che nella lotta alla malnutrizione sanno andare oltre le carte e scorgere i volti spenti e le situazioni drammatiche di persone provate dalla fame e dalla sete. E' quello che Papa Francesco ha rivolto al personale della FAO durante la sua visita in occasione della seconda conferenza internazionale sulla nutrizione. Le persone chiedono dignità, ha insistito il Pontefice, soprattutto nel vostro ambiente. C'è tanto bisogno di persone che si distinguono non soltanto per la professionalità ma anche per un senso spiccato di umanità, di comprensione e di amore. Le popolazioni, a concluso, hanno il diritto di vedere migliorate le proprie condizioni di vita. L'acqua non è gratis, come tante volte pensiamo. Sarà il grave problema che può portarci a una guerra. L'acqua non è gratis, come tante volte pensiamo.